Il progetto del nuovo oratorio di cui tante volte avete sentito parlare in questi 14 anni perché il progetto, il primo progetto è stato presentato niente meno che nel 2008 e lo presentiamo così, in maniera molto semplice io facendo un po' di storia del cammino e presentando quelle che sono le motivazioni che ci hanno portato a fare un progetto di questo genere poi ci sarà Ezio, l'architetto, Ezio Pedrocchi che presenterà il progetto e poi ci sarà anche il nostro, non lo vedevo in giro, Sergio Alebardi che presenterà la parte di carattere economico perché dobbiamo pur presentare anche quello Inizio allora con un po' di storia, cerco di essere veloce il più possibile Dobbiamo partire dal 1975, aprile Nella relazione proposta di rinnovamento pastorale nella parrocchia in occasione della visita pastorale del Vescovo Monsignor Luigi Morstabilini relazione preparata con tutta probabilità da Don Tarcisio Festa prima della sua dipartita da Iseo si dice a riguardo dell'oratorio Urgente e primario resta il problema dell'oratorio maschile perché allora c'erano due oratori quello maschile e quello femminile tenuto dalle madri canossiane che per l'esiguità e la povertà non esclusa la pericolosità delle infrastrutture domanda un tempestivo intervento Nella lettera inviata dal Vescovo alla parrocchia dopo la visita si parla addirittura di oratorio fatiscente e il Vescovo sollecita la parrocchia a intervenire sono passati 50 anni da allora il primo progetto è stato fatto nel 2008 dopo attenta discussione con il consiglio pastorale parrocchiale e con il consiglio pastorale per gli affari economici che d'ora in avanti chiamerò CPP e CPI per abbreviare si intraprende un cammino di collaborazione che porterà la firma di un preliminare tra parrocchia, comune allora era sindaco l'attuale dottor Marco Gitti la curia Vescovile e Brescia Mobilità per la costruzione di un parcheggio sotto il campo sportivo dall'oratorio da parte di Brescia Mobilità che si impegnava a costruire poi il nuovo oratorio sempre nella parte sotto dell'oratorio questo progetto venne approvato all'unanimità dal consiglio comunale di allora poi tutti conoscete la telenovela nella quale la politica ha giocato il suo ruolo negativo anche dopo la presentazione di un nuovo progetto che prevedeva un solo piano di parcheggi per non interferire nella cosiddetta faglia venne anche quello bocciato dall'ARPA si arriva al 2012 a presentare al soprintendente Alberti un nuovo progetto che viene dal soprintendente approvato e che prevedeva due corpi distinti un ampliamento della palazzina del bar il cosiddetto ex centro giovanile e la costruzione di un salone polivalente in questa zona dove siamo noi ora con il tendone questo progetto che abbiamo dovuto accettare in quanto imposto dalla soprintendente non era in consonanza con le nostre istanze pastorali tant'è vero che siamo andati anche con la curia a far presente i ricordi al soprintendente le nostre idee ma non c'è stato niente da fare tra l'altro in quel progetto non erano previste nemmeno aule di catechismo in più che sono quelle necessarie e poi rimaneva il problema di fondo salire e scendere continuamente per le varie attività senza la possibilità dell'accesso agli ambienti per i portatori di educa nel 2018 arriva un nuovo soprintendente Stolfi torniamo alla carica per rivedere il progetto abbandonando l'idea dei due corpi difficili da gestire da costruire anche per la mancanza dei fondi vi ricordo che stavamo pagando il tetto della pietra il soprintendente viene in visita e sposa la nostra idea pastorale e che prevedeva il rispetto dell'ambiente storico-artistico in cui si inseriva si prepara un nuovo progetto che viene inviato ma il soprintendente viene cambiato intanto nel 2019 il sottoscritto fa istanza alla CEI per ottenere dall'otto per mille un contributo per la nuova edilizia di culto che comprende anche i nuovi edifici degli oratori nello stesso tempo si contatta il nuovo soprintendente Rinaldi che consente a fare un sopralluogo e di fronte a tre progetti che abbiamo presentato quindi immaginatevi il lavoro che è stato fatto continuando a presentare progetti a secondo delle idee del soprintendente perché se non si ha il permesso della soprintendenza tu non fai niente in questa zona il nuovo soprintendente scarta immediatamente due progetti mantiene il terzo che vuole studiare a fondo personalmente e che è il progetto che vi verrà presentato dopo alcuni mesi nel 2020 arriva l'approvazione di massima del progetto da parte del soprintendente con la richiesta della ridefinizione di alcuni elementi architettonici nel 2021 che vi verranno poi presentati nel 2021 la CEI ammette l'accessibilità ai fondi per la costruzione del nuovo oratorio ma a motivo del perdurare del covid chiediamo la proroga di un anno della sovvenzione quest'anno la CEI ha fatto richiesta in giugno di inviare il progetto per quantificare il contributo il contributo della CEI viene dato solamente sulle realtà di ordine pastorale quindi le aule di catechismo che saranno otto nel nuovo ambiente e per il salone polivalente che sarà di circa 300 posti un salone di cui ha bisogno la comunità questo è il litro burocratico siamo arrivati a questo dove c'è l'approvazione del sovrintendenza c'è l'approvazione della curia e c'è l'approvazione della CEI per il contributo vi diciamo ora le motivazioni di carattere pratico pastorale e tecnico che abbiamo presentato al collegio dei consultori della curia Vescovile il consiglio per gli affari economici della diocesi di Brescia al comitato della CEI alla sovrintendenza di Brescia perché per l'edificazione di questo nuovo edificio ci sono delle motivazioni che ci hanno spinto e sono le seguenti l'esiguità degli spazi adibiti alla catechesi nei vecchi edifici in questo edificio superiore abbiamo in tutto tre aule di catechismo una aula è utilizzata come magazzino e ci sono due sale per le attività pastorali l'ex cinema che è di 120 posti e l'aula del sottopalco che tra l'altro noi usiamo ma che non sarebbe amore l'aula più grande è qui al piano terra 5x6 qui sotto il portico le due sono al primo piano 3x40x4x50 e 5x5 l'edificio ex centro giovanile ha tre aule per la catechesi al primo piano 4x8 3x50x5 6x6 per sopperire all'esiguità delle aule ci siamo da sempre appoggiati alle madri canossia ma dall'anno scorso a motivo del cantiere che hanno ancora in opera per la sistemazione degli loro ambienti e per il motivo della tutela della salute delle madri anziane non abbiamo più potuto usufruirne e in futuro non potremo più usufruirne è stata fatta un'eccezione per il teatro perché è in un certo senso un po' extra cantiere e extra la loro abitazione tutte le aule non sono accessibili ai portatori di handicap se non salendo da via Mirolte e via madonna le barri per raggiungere variavole bisogna sempre fare scale e nel frattempo via Mirolte viene chiusa al traffico con la ZTL per cui chi può entrare solo chi ha il permesso lui io i camioncini e bisogna chiedere continuamente il permesso per poter entrare terzo motivo lo studio della regione Lombardia pubblicato sul BURL il 23-6 2011 classifica questo edificio dell'oratorio con un indice di vulnerabilità sismica superiore a 50 la più alta di tutti gli edifici di SEO L'intervenire quindi su un edificio del genere comporterebbe una spesa ingente e non sorvenzionabile dalla CEI rimarrebbe tra l'altro un edificio che non ha spazi sufficienti Tutta la proprietà dell'oratorio è stata tra l'altro ritenuta non vincolata dal punto di vista storico-culturale dalla verifica di interesse fatta presso la regione Lombardia nel 2013 quindi non esiste nulla di interesse storico-artistico La palazzina ex centro-giovanile che secondo le indicazioni della soprintendenza dovrà essere riportata all'originale togliendo il porticato esterno sarà completamente ristrutturata ricavando al piano superiore l'appartamento del curato mentre nell'attuale bar si creerà la segreteria e la direzione dell'oratorio con un'aula ampia per alcune riunioni L'ultima motivazione che ci ha portato a questo progetto è il cammino dell'unità pastorale che dal 2013 conclusane e dal 2017 compilzone si sta cercando di attuare c'è bisogno di ambienti che possano soddisfare incontri riunioni e quant'altro dove saranno convocate tutte e tre le parrocchie queste motivazioni di carattere pastorale sono quelle che ci hanno portato a questo progetto di un unico piano che ora vi sarà presentato dall'architetto Pedrochi che l'ha progettato tenendo presente tutte queste istanze lascio le parole a Morali spero di non essere troppo lungo anche perché le cose da dire sono un po' tante 14 anni di progetti voi capite che per un motivo o l'altro o quell'altro dovrebbero essere raccontati meglio io cercherò di essere il più sintetico possibile proprio per non stufarvi anche perché sono cose che sono interessanti ma forse possono anche qualcuno lo possono anche stancare e volevo partire come ha partito Don Giuliano prima di tutto partiamo prima da questo scritto che avevamo ritrovato negli archivi che risale il 1951 è il momento dell'inaugurazione e benedizione della nuova opera cioè dell'opera dei Salesiani quando hanno realizzato praticamente l'oratorio con la demolizione delle mura e la realizzazione del campo sportivo nella parte bassa e non solo adesso vi faccio vedere questa che è la come vedete nella parte qua in cima questa qui è la prima parte che è stata donata con la donazione di Francesco Bonardi nel 1902 che riguardava l'attuale palazzino dell'oratorio quella che vedete poi in parte alla mia destra e questa parte di cortive dove praticamente si svolgeva tutta l'attività oratoriana e i Salesiani erano confinati in questa zona nei successivi invece i Salesiani hanno cominciato a comprare questo mappale poi la villa ex villa Vienn che è questa da sotto in più hanno ottenuto e comperato questi altri due mappali grandi proprio per realizzare sia il campo sportivo sia nella parte bassa come vedete nel progetto che c'è all'antere la parte diciamo così dell'educazione che nella palazzina giù sotto quella dell'escento giovanile c'erano le scuole medie quindi educazione attività sportive con un campo da calcio una pista d'atletica uno spazio per il salto in lungo e altri campi per i giochi poi nella parte superiore invece c'era tutta la parte pastorale qui sopra c'erano le aule dove si svolgeva la pastorale c'era il teatrino realizzato nel 1924 vi faccio vedere anche qualche immagine di quello ecco vedete qui le operazioni che sono state fatte negli anni negli anni 50 in più non manca la fotografia ma c'è una fotografia nel 1924 dove si vede che il precedente la precedente aula nella parte terminale dell'edificio viene completamente demolita e viene realizzato questo teatro quindi i salesani avevano un'idea ben precisa hanno costruito una struttura compiuta diciamo con tutti i suoi vari aspetti dall'educazione alla pastorale allo sport al cinema quindi l'attività un complesso diciamo così che ha funzionato per tanti anni ha funzionato molto bene per tanti anni fino a quando poi dopo per necessità per cambiati una società che è cambiata completamente ha cominciato a perdere la sua importanza diciamo così ecco perché noi ci siamo messi 70 anni dopo a provare un nuovo inizio questo nuovo inizio lo raccontiamo subito le parti che vengono coinvolte così avete ben chiaro di che cosa stiamo parlando cioè per quanto riguarda noi parliamo della parrocchia di Eseo e della Curia di Brescia con tutti gli organismi legati c'è il CPP parrocchiale di Eseo il CPE parrocchiale il consiglio dell'oratorio i catechisti i volontari per quanto riguarda invece la Curia ci sono l'ufficio beniculturale l'ufficio oratorio il consiglio consultore con il consiglio aperti a fare economici poi c'è il comune di Eseo con l'amministrazione comunale e l'ufficio urbanistica e la soprintendenza di Brescia con il soprintendente e i funzionari di zona quindi tutti questi diciamo così queste sono tutte le componenti che scendono in campo nel momento in cui noi ci apprestiamo a fare il progetto dell'oratorio e cominciamo nel 2008 perché il 27 novembre 2008 la parrocchia comincia a sottoscrivere un protocollo di intesa con il comune di Brescia Brescia Mobilità e Brescia Mobilità per l'indirizzazione dell'oratorio e un parcheggio interrato posto su due livelli l'amministrazione comunale ritiene che sia strategica lo leggete questa realizzazione del parcheggio multipiano proprio perché poteva essere l'occasione per sportare tutto il traffico cioè il traffico il parcheggio veicolare che c'era all'interno dei vicoli e del centro storico farlo ricadere su questi su questi su questi parcheggi che si andavano a realizzare Brescia Mobilità diventava patrono praticamente per 99 anni e in conto dava alla parrocchia tutto il necessario per potersi realizzare il proprio progetto nel 2008 viene incaricato lo studio da Brescia Mobilità allo studio da Bini di Brescia per la stesura di un progetto io vengo affiancato come tecnico da parrocchia per vedere di trovare di coniugare diciamo così le parti interessate cioè quelle che facevano il parcheggio ma il parcheggio interessava fino a un certo punto non interessava lavoratorio cercare di far coniugare le due versioni nel 2008 però questa operazione aveva necessità di essere una variante al PRG perché apportava delle modifiche urbanistiche alla pianificazione territoriale locale di conseguenza doveva andare in consiglio comunale per fare una variante urbanistica e così avviene il progetto è da questo qua praticamente non so se ve lo ricordate l'abbiamo presentato nel 2009 nella parte alta c'era la zona educativa nella parte bassa c'era tutta la zona ludico ricreativa con le zone per i campi sportivi e sotto c'erano questi famosi due piani di parcheggi qui li vedete in questa posizione con un ampio magazzino in uno spazio che era sopra c'era tutta la parte della sala polivalente e sotto c'era questo grande magazzino per le attrezzature per le attrezzature dunque nel 2009 ad aprile la variante viene adottata e a settembre poi viene approvata definitivamente però non è finita perché per procedere col progetto erano necessarie le indagini geologiche e le indagini archeologiche queste erano necessarie perché dovevamo andare a verificare se c'era la soggettabilità vasta del progetto e la valutazione ambientale strategica le indagini vengono svolte nel 2010 e devo dire che hanno un impatto abbastanza devastante e ci creano qualche problema sul nostro campo non so se vi ricordate sono più di 30 buchi di una larghezza da 4 metri per 6 con una profondità di 4 metri e 50 e che praticamente ci scavano tutto il campo da calcio diventerà un problema poi dopo perché rimettere in sesto questo campo non è stata cosa facile anche da un punto di vista oneroso c'è costato qualcosa e queste indagini però non risulta nulla tranne l'identificazione di un fossato del fossato praticamente del castello che doveva indicativamente essere posizionato proprio sotto la scarpata praticamente i piedi di questa scarpata per una fascia più o meno di 8 metri doveva esserci questo fossato infatti dalla terra l'archeologo disse che si vedeva che la terra ha composizioni diverse che probabilmente in epoca remota era stata interessata dall'acqua a questo punto la soprintendenza dice bene non avete trovato nulla nessun resto nessuna identificazione particolare però c'è il fossato provate a vedere se riuscite a trovare un'altra soluzione e questo ci complica ulteriormente i nuovi piani perché noi proviamo a fare alcune soluzioni qua adesso ve le faccio vedere le sporo velocemente spostato anche tutto completamente dalla parte terminale del campo sportivo con un edificio diciamo coperto verde e soltanto per il 2012 dopo una serie di compromessi perché si parla poi di compromessi con la soprintendenza riusciamo ad ottenere questa soluzione architettonica che cosa prevedeva? prevedeva la ricostruzione delle mura demolite e all'interno di questo spazio dove ci troviamo adesso con questo diciamo tendone creare una copertura nuova in legno lamellare che facesse svolgesse il ruolo che sta svolgendo adesso il tendone cioè l'aula univalente e le aule diciamo così per la pastorale erano sempre demandate nella parte dell'oratorio vecchio in più c'era uno sdoppiamento c'è un un ampliamento molto importante della palazzina ex centro giovanile ecco questo è il progetto vedete adesso la palazzina che vedeva praticamente il suo nucleo nel punto originario che era questo viene ampliato del doppio ma questo progetto però doveva ancora passare al vaglio di un paio di cose la prima una pratica paesaggistica monumentale quindi doveva ritornare in sovrintendenza perché non era più il progetto fatto in precedenza e così facciamo nel 2012 abbiamo questo paesaggistico favorevole nel contempo ci avevano indicato sempre la sovrintendenza ci aveva indicato di fare la verifica di interesse storico culturale di cui ha parlato Don Giuliano fatta per tutti e due gli immobili sia questo dell'oratorio sia quello del centro giovanile ed entrambi le verifiche danno esito negativo però quello succede che essendo spostato la struttura adesso si era spostata su necessitava questo luogo di essere interessato ancora da indagini archeologiche che qui non avevano fatto le avevano fatte nel campo sportivo ma qua sopra non le avevano fatte tra parentesi qui è la zona che dovrebbe essere interessata dalla villa romana quella per cui sono stati trovati reperti sia in via madonna della neve sia nel sagrato non so se vi ricordate quando abbiamo sistemato le scale dietro la madonna della neve abbiamo trovato proprio i resti della villa romana quindi siamo in una zona sensibile e le indagini portano alla verifica che effettivamente dei resti significativi ci sono qua sotto anche se non sotto molto terreno quindi diventava un problema non potevamo scavare più di tanto quindi anche con le fondazioni avremmo dovuto avere potevamo avere anche dei problemi a questo punto Brescia Mobilità scaduti i suoi anni i suoi cinque anni in cui si è interessata del progetto dice beh io mi fermo qui non vado oltre non mi interessa più l'operazione non mi interessa più tra parentesi il progetto che sta andando in bassa andrà comunque con i parcheggi con due piani di parcheggi interrati ma era già chiara un'indicazione dell'arpa con la quale avevamo avuto anche contatti eccetera mi era già chiara un'indicazione che non si poteva andare a scavare sul campo perché sul campo bisogna tenere un franco almeno di cinque metri dalla falda freatica e la falda freatica cioè la falda diciamo così dell'acquedotto è sotto un paio di metri di conseguenza non avevamo questi spazi e questo margine questo franco di sicurezza non ce l'avevamo la parrocchia fa un nuovo accordo comunque con il comune nella quale dice va bene noi cercheremo di fare qualcosa però cerchiamo di andare di nuovo d'accordo e cerchiamo di portare avanti comunque il progetto l'accordo viene fatto si va in VAS e la VAS conferma quello che stavo dicendovi prima nonostante avessimo presentato anche un progetto in VAS che si fermava appena ad un piano cioè voi pensate che l'unico piano interrato che c'era sotto usciva alla quota dell'attuale via la Repubblica quindi non si scavava ulteriormente arrivava la quota del piano ci siamo sempre domandati perché di no anche da parte dell'arpa però e pariva sempre l'interpretazione che ne hanno dato cioè i 5 metri di franco dovevano essere rispettati anche noi in VAS la base condizionata ci dà parere favore del ciccio benissimo fate il progetto sopra dell'oratorio però non scavate nulla sotto non scavate non fate nessun tipo di parcheggio a questo punto abbiamo un attimo di pausa anche come ha detto Don Giuliano ci fermiamo un attimo come parrocchia perché diciamo qua forse andare a realizzare sopra non riusciamo ad ottenere quello che è il nostro obiettivo sia dal punto di vista pastorale ma anche dal punto di vista organizzativo gli spazi sono sempre quelli e ci troviamo dalla parte sopra che è difficile da raggiungere e la parte sotto che praticamente libera il poter gestire questi due spazi a memoria a memoria mia personale è sempre stata un'osservazione che hanno fatto tutti i curati che si sono vicendati qui in oratorio da Don Ermano Turla da Don Angelo Scotti da Don Michele da Don Mario tutti hanno avuto sempre tutti questa problematica di dire ma io come faccio a gestire un oratorio in questa maniera è difficilissimo non riesco mai a controllare nessuna zona della sua spazio praticamente qui quindi qui vorrebbe meno una faccio una divagazione storica nel primo secolo avanti Cristo c'era un signore che si chiamava Vitruvio e scrisse di architettura cioè scrisse dieci volumi che parlavano di architettura e di storia degli stili greci soprattutto greci e del modo di costruire greco e disse affinché una costruzione possa avere un suo significato arriviamo ad identificare quantomeno a localizzare lo spazio dove potevano inserirsi nuovi volumi poi dopo dell'architettura del progetto ne abbiamo parlato successivamente e l'architetto Storfi ci disse assieme all'architetto Curucci disse guardate per noi lo spazio che c'è nell'angolo in parte di spogliatoi tutta quella fascia potrebbe essere uno spazio interessante nel quale possiamo andare ad ubicare potete andare ad ubicare il vostro progetto pensateci fate le vostre valutazioni e vedete cosa potete realizzare le nuove valutazioni le prendiamo però di nuovo da campo cioè nel senso che allora non vogliamo ricadere nell'errore di andare avanti con un progetto che poi non rispondeva alle nostre necessità e quindi cominciamo a fare un po' un'analisi dei luoghi e un'analisi delle criticità l'inquadramento dei luoghi qui lo vedete dimostra una cosa secondo me molto interessante prima di tutto che nella parte se voi vi mettete giù nel campo dell'oratorio si legge benissimo la fotografia lo spiega benissimo si è creato una specie di anfiteatro dei terrazzamenti che si si protrae da sotto le mura fino ad arrivare in fondo verso dove ci sono gli spogliatori in questa tutta zona qui uno spazio che è segnato da questo diciamo così da questa orizzontalità degli elementi del territorio dove i terrazzamenti le balze il piano sopra dell'oratorio è tutto uno filo conduttore orizzontale poi qua è un'indicazione che abbiamo l'analisi di una cosa molto importante che sono stati gli accessi e gli accessi sono di due tipi una madonna della neve e una gara repubblica quello da via madonna della neve con tutta una serie di criticità che ha espresso prima il paro che poi ve le farò vedere ma ne conoscete benissimo perché siete in gran parte tutti di SEO mentre invece da via Repubblica l'accessibilità è tutta altra cosa e devo dire che è stato un elemento che nella presentazione fatta alla CEI ha avuto il suo forte significato il forte appeal nel senso che hanno capito benissimo che la popolazione per arrivare a piedi in oratorio deve fare una serie di percorsi non proprio ad ostacoli ma quasi ecco qua ce ne sono alcuni per chi volesse avventurarsi su questi ancora di più mentre invece chiaramente dall'ingresso nel piano nella parte bassa è immediato sia un accesso veicolare sia un accesso pedonale sia le mamme con i passeggini sia la persona potta decidendica in più il discorso sulla scala d'accesso cioè per le parti altre viene sempre comunque da scale che una sono quello dello scalone realizzato negli anni 50 dai salesiani dopo le dura dopo la demolizione delle mura e questa scala che lo avete qui in parte quindi andare comunque ad avventurarsi in spazi che erano e con percorsi che erano di difficile funzione inoltre qui e non mi dilungo perché l'ha già detto Don Giuliano ci sono tutte le dimensioni delle stanze che sono state realizzate cioè sono stanze ma sono stanze di abitazioni riutilizzate per spazi di oratorio di pastorale non hanno quindi quelle caratteristiche che dovrebbero essere necessarie tra parentesi gli ostacoli li mette la ceipo in questo caso perché dice che come minimo tutte queste stanze queste stanze dove si svolgono le aure dove si svolge la pastorale devono essere almeno di 40 metri l'una perché in 40 metri loro trovano un'orodefinizione o uno spazio appropriato per i ragazzi a testa diciamo così per ogni persona che si può andare all'interno e poi come si è detto infatti la criticità dal punto di vista sismico è quella non è poca cosa questo passo veloce e arriva il progetto del nuovo rottone a fronte di tutta questa analisi che si è condotta per molto tempo su tutti questi punti succede che ci si mette a progettare la prima cosa che personalmente balza all'occhio è stata oltre al discorso che facevo prima dell'orizzontalità dello spazio e quindi questo anfiteatro che si crea come elemento e anche la frammentazione di tutti questi elementi che ci sono all'interno dell'oratorio cioè ci sono scale elementi verticali ci sono cose mezze mezze distribuite mezze no quindi c'è una frammentazione distributiva che dà fastidio poteva venire in aiuto che cosa potevamo dire chiaramente esempi tipologici magari di architetture recenti ma anche soprattutto poteva venire secondo me la storia anche perché poi tante volte noi architetti giriamo attorno a tante facciamo voli pindarici attorno a soluzioni eccetera particolari ma poi arriviamo a trovare come diceva l'architetto Aldo Rossi introduciamo sempre tutto questo in un disegno che è antico perché è un disegno che ci era già prima e che qualcuno aveva già fatto prima di noi per esempio una cosa che mi ha sempre affascinato è l'esempio queste sono le sue suggezioni progettuali la piazza del mercato a Rovato dove il Vantini proprio in quel caso lì si addossa al rivellino del castello che verrà poi demolito addossa la sua costruzione a demiciclo e crea una piazza quindi mette ordine in uno spazio dove ordine prima non c'era uno spazio dove al di fuori del bastione o meglio al di fuori del rivellino c'era uno spazio indefinito lui lo ridefinisce ci crea una piazza quindi un elemento ordinatore è questa struttura è questo elemento di porticato che con sopra praticamente le abitazioni sotto c'erano le attività commerciali sopra il porticato e si svolgeva poteva svolgersi il mercato in questa zona qui vedete la parte gialla che vedete lì è la parte del rivellino che viene demolita dal Vantini questo è un aspetto definitivo ma non solo visto che il Vantini era stato qui di Eseo questa della piazza di Rovato l'elemento architettonico principale è se voi la guardate attentamente è una riproposizione di un elemento che invece sulla piazza del mercato di Eseo viene svolta in maniera orizzontale senza curve non è più stondaggio non è più concavo ma diventa lineare assuma una forma completamente diversa ma la cosa che stupisce ancora di più è che il Vantini queste idee le ha prese molto prima le ha prese dai mercati di Praiano da Roma e qui le vedete palesemente come idee urbanistiche edilizie architettoniche già utilizzate questa qua è un'altra suggestione a Villa Manini in provincia di Udine e comunque il life motive è sempre quello questo motivo però a noi poteva essere con le esigenze che avevamo di realizzare aule realizzare un portico dove poter adunare i ragazzi io questo ricordo da bambino che mi sono portato dietro quasi come un trauma quando si faceva quella che si chiamava colonia adesso si chiama Gresmo una volta è la colonia alle due del pomeriggio eravamo sotto quella parte lì dove c'è la ringhiera picchiati al sole dall'una e mezza fino alle due e un quarto quando si partiva a piedi a piedi per arrivare in quella località della Sassabale con le nostre bandiere e i nostri standard di gomma era un momento tragico perché qui c'era tutto il sole che picchiava che mi chiamava come un vale vento e anche sentendo Don Giuliano uno dei problemi che poteva essere delle attività era quello di trovare proprio un punto all'aperto dove poter portare i ragazzi anche in qualsiasi momento anche di pioggia non soltanto di sole ma anche di pioggia e quale meglio del portico come elemento il portico come elemento ordinatore che all'interno trova invece le aule che convergono sul portico e che si riuniscono poi in quello che è lo spazio del salone polivalente ed ecco qua la soluzione che molti di voi hanno già visto quella che abbiamo portato nel 2021 dall'architetto Rinaldi che dopo una serie di verifiche fatte direttamente da lui e ci ha lasciato stupiti quella mattina che eravamo io lei Don Giuliano presentatelo così che va bene siamo tornati a casa tutti e due contenti contenti e soddisfatti vedete anche la simbologia ha un suo significato la parte centrale di questo salone pur non rispondendo ai canoni del teatro vero e proprio ha però un'idea simbolica questo vuole essere il significato di un seme un seme della gioventù che è posto proprio nel cuore del nostro territorio e all'interno del quale si può creare qualcosa di nuovo la gioventù può trovare nuovi sbocchi nuove porte questa è la copertura io vi faccio vedere adesso quella che è la prima ipotesi che però la sottomintendenza ci ha dato parere a favore però ha voluto alcune correzioni poi vi dico quali nella parte questo è il render nella parte superiore noi abbiamo realizzato questo che è un anfiteatro all'aperto che guardava verso la madonna la cistra la madonna la neve perché alla fine questo percorso che non so se avete visto prima i percorsi laterali che sono questi uno questo e l'altro questo convergono nella parte superiore dove c'è dove c'è dove c'è dove c'è questo anfiteatro e la sorprendenza però ci ha detto che non voleva quell'anfiteatro e l'anfiteatro e lì sopra ci ha detto di toglierlo prima era sì prima era sì poi è stato no ma è detto di toglierlo bene noi abbiamo proposto anche un tetto vero che da un punto di vista paesaggistico ci sembrava migliore ci hanno detto assolutamente di no questa è la vista dall'alto questo è lo scorcio di quello che sarebbe tutta la struttura questi sono i percorsi il percorso laterale che sale quindi questa è l'autorizzazione che a novembre 2011 invece ci ha dato la superintendenza che come vedete si ritiene la soluzione presentata compatibile con le esigenze di tutela monumentale e paesaggistica e rilascia dunque parere favorevole alla realizzazione dell'opera sotto nelle righe c'è scritto appunto quello che vi ho detto prima la demolizione della parte del teatrino l'aperto e la copertura che non vorrebbero una copertura piana adesso siamo siamo in contatto con la soprintendenza per capire che tipo di copertura adesso vi faccio vedere quella che abbiamo proposto anche per spiegare il motivo nel 25 maggio abbiamo presentato il progetto in comune depositato il progetto per il piano di recupero e campo sportivo ecco la soluzione è questa qua noi abbiamo riproposto una copertura a coppi anche perché se vediamo se c'è una vista migliore ecco parlavo prima dell'orizzontalità dell'edificio proprio perché alla fine non va a disturbare tutte le emergenze storico-architettoniche che ci sono sopra cioè si leggono completamente bene la chiesa della Madonna della Neve in profondità il campanile della parrocchiale e più spostato anche tutte le torri e il castello Odofredi quindi l'elemento architettonico non va a disturbare nulla di tutto quello che c'è e nello skyline pensavamo che se non andava bene il tetto piano se non andava bene il tetto verde la riproposizione di un tetto o due falde in coppi che praticamente riprende i coppi che si vedono in lontananza che sono quelli della chiesa quelli delle case vicine quelli dell'oratorio eccetera potesse essere la soluzione migliore questo non ci è dato ancora a sapere la risposta della sofferenza e la faremo sapere questo è il percorso e questa è praticamente una vista da render di quella parte diciamo così porticata dove questi gradini alla fine possono essere delle sedute alla gente che va nel campo mi sono dimenticato di dire una cosa allora nella realizzazione del progetto al di là dell'edificio sono comunque stati garantiti un campo a sette con le dimensioni previste dal CSI quindi per calcio CSI un campo di pallavolo basket che è subito dietro al campo di calcio e stiamo ancora pensando a come sviluppare nelle altre parti verdi i giochi per i bambini lo spazio per un altro campo che eventualmente potrebbe anche essere in quel caso forse riportato qua di sopra come era prima dove c'era un campo di pallacanetto di portine non le chiamavano di calcetto a 5 vedremo come fare ma parliamo un attimo anche del finanziamento CEI poi ci sarà Sergio che darà altri libri dal punto di vista finanziario allora la CEI come ha detto Don Giuliano ha un suo regolamento e ha delle modalità di finanziamento ben precise il progetto infatti è stato valutato preliminarmente dal comitato della CEI è stato verificato secondo tutta una serie di parametri che ci hanno fatto verificare loro che sono i parametri loro interni come dicevo prima quelle delle dimensioni delle aule quelli degli spazi di servizi igienici quelli degli spazi di percorsi pedonali tutte queste cose che abbiamo verificato con la CEI e ci dà il 70% di quello che riguarda soltanto però le parti pastorali cioè quindi il salone corivalente e le aule però queste devono avere delle dimensioni ben precise e questi sono i parametri che ci dà la CEI di riferimento in base al numero degli abitanti noi ricadiamo in questa parte di 9000 10.000 abitanti quindi possiamo avere una superficie una quantità massima di aule di 18 una superficie totale di 630 metri quadrati per quanto riguarda le aule e per quanto riguarda il salone di 410 metri quadrati noi abbiamo 8 aule preventivate i quali la CEI erano 18 la superficie delle aule nostre è 390 contro il 630 della CEI la superficie del salone è 395 contro il 410 previsto dalla CEI la superficie del barbicino non ha limiti perché quella non te la finanzia e quindi dicono se vuoi fare il barbicino farlo quanto vuoi te lo paghi tu il vento è gli spogliatoi il vento è il portico che sono quasi 590 metri quadrati di portico ecco questi sono tutti i dati del progetto sono tutti i dati che sono stati il frutto di un lavoro come avete visto che non a caso è durato più di questi anni anche perché c'era giunto una serie di scogli di scogli e di impedimenti che dovevano essere verificati superati noi pensiamo con questo progetto in maggior parte di averli superati anche perché lo stacco è sempre stato da fin quando ci siamo mostri la prima volta ci hanno detto guardate la soprintendenza perché la soprintendenza è quella che vi metterà sicuramente in qualsiasi momento delle condizioni gravose noi l'abbiamo provato e finalmente ci siamo riusciti a distanza di tanto tempo abbiamo trovato un progetto che alla fine convince convince un po' tutti soprattutto la parrocchia che in questo caso trova in questo progetto l'esplettamento di tutte le sue necessità basta io mi fermerei qui lascio lascio tanto con Bosco che dice due o tre cose ma questo non fa niente quindi lo leggiamo prima di sapere una cosa ci accertiamo che è volontà di Dio che la cosa si faccia avuta questa certezza noi andiamo avanti parrà che mille difficoltà si incontrino per via ma non importa Dio lo vuole e noi stiamo intrepidi in faccia a qualunque ostacolo è una frase di San Giovanni Bosco grazie allora innanzitutto buonasera a tutti dopo aver sentito da Don Giuliano le motivazioni pastorali che stanno alla base del progetto del nuovo oratorio dopo aver ascoltato tutto l'inter e il progetto che si è stato ben presentato dal tecnico di fiducia della parrocchia che è appositamente incaricato a me dico non che non toccare i numeri ma almeno fornire alcune cifre riguardo i costi che la parrocchia dovrà affrontare per tradurre in realtà questo progetto come già stato detto ho tenuto il parere degli organismi parentiali preposti CPPC e GPAE successivamente quelli della Curia dei vari livelli poi della sovrintendenza e infine quello della CEI vi dico che la spesa complessiva preventivata dopo sappiamo i preventivi dopo come si traducono in realtà ammonta circa 1.600.000 euro per far fronte a questa non indifferente spesa che la nostra parrocchia nei prossimi anni dovrà collarsi è stato chiesto ottenuto un contributo da parte della CEI il contributo come è stato detto coprirà però solo il 70% della spesa perché riguarda esclusivamente le aule i servizi e il salone polivalente e il contributo pertanto arriverà a circa 700.000 euro pertanto la differenza di 900.000 e per il festival portico il bar la cucina i spogliatoi l'abitazione del curato eccetera sarà a completo carico nostro cioè della parrocchia e questa volta la parrocchia non potrà vendere proprietà per far fronte a questa spesa perché non ne ha più le proprietà che la parrocchia sono le chiese e nient'altro e l'oratorio e nient'altro mentre 70 anni fa quando sono andate via i salesiani la parrocchia ha dovuto vendere alcune proprietà tanto per citare abbiamo le piane di San Martino una breda di montagna che è quella della Valle del Prezzo per chi si ricorda un'area creminiane eccetera per poter acquisire dai padri salesiani tutta l'attuale area in cui ci troviamo dalla fine dello scorso anno quando è stata lanciata l'iniziativa del nuovo oratorio anche senza aver visto il progetto che l'abbiamo visto tutti stasera sono pervenute offerte per oltre 41.000 euro nel frattempo però negli ultimi tre anni sono state spese per consulenze indagini archeologiche e ambientali pratiche catastali pratiche amministrative varie oltre 15.000 euro tutto questo tutte queste cifre che vi ho detto fino adesso è una poca una voce è una poca cosa rispetto alla cifra complessiva e per questo sono studiati i modi di raccogliere fondi fondi che serviranno solamente a pagare il mutuo che la parrocchia dovrà sottoscrivere e dovrà affrontare per poter procedere con i lavori perché anche il finanziamento CE dei CEI durante il finanziamento CEI arriverà ad opere eseguite quindi intanto sono da anticipare questi soldi e anche questo dovranno si confida comunque sempre nella sensibilità della nostra comunità parochiale che non è mai venita meno adesso sapete anche bene cosa dovremo andare incontro e dovremo affrontare grazie di fronte a tutto questo io sono tenuto a dirvi alcune altre cose questa riunione doveva essere fatta il 27 di giugno però il 24 giugno arriva per conoscenza della parrocchia di Sio firmato dall'amministrazione comunale di Sio senza nessuna firma amministrazione amministrazione primale arriva una lettera circa il progetto del nuovo oratorio letta questa lettera io con alcuni collaboratori abbiamo deciso di spostare la presentazione del progetto in modo in modo da avere un colloquio con un rappresentante dell'amministrazione comunale perché questa lettera io ve la leggo adesso così non do nessuna interpretazione vi leggo la lettera che è stata scritta alla parrocchia quindi non a me alla parrocchia e leggendo questa lettera noi abbiamo richiesto un incontro con l'amministrazione comunale un incontro che è avvenuto dal quale abbiamo ricevuto delle risposte un pochettino vaghe vi leggo la lettera che così non vi tengo in sospeso più di tanto oggetto 24 Iseo 24 giugno 2021 oggetto progetto nuovo oratorio relativamente al progetto da voi depositato con protocollo numero tra i tali del 25 maggio con la presente siamo a ribadire quanto già espresso in serie di incontro tenutosi qualche mese fa presso i nostri uffici in febbraio durante l'incontro vi avevamo espresso alcune perplessità inerenti alcune proposizioni progettuali ponendo l'accento su varie questioni allo stesso modo avevamo indicato suggerimenti propedeutici al confronto costruttivo dichiarato di sfinda subito purtroppo rileviamo che non avete minimamente tenuto in considerazione quanto ci eravamo detti tanto che ad oggi avete protocollato il medesimo ed analogo progetto da notare che questo progetto l'avevamo già presentato nel 2021 novembre consapevoli dei vincoli temporali che ne condizionano l'accesso a finanziamenti dedicati e dei rurali della Celi intendiamo tuttavia esporvi nuovamente alcune valutazioni che riteniamo fondamentali il luogo così come lo viviamo oggi ha origini ben precise la scuola attenuta dei salesiani ha formato intere generazioni di nostri concittadini il tempo a scuola lo sport il luogo dell'incontro sono rappresentati molto bene dal sito sul quale si adagia il nostro oratorio il campo sportivo ed il suo vuoto rappresenta un uricum nel tessuto urbano del paese la palazzina sovrastante da sempre è l'oratorio con il relativo piazzale originariamente unico spazio vuoto il cui valore storico simbolico ne rappresenta una certezza la scalinata da sempre è il naturale collegamento fra il primo tra il piano terra con il suo centro giovanile altro simbolo storico di Iseo ed il piano rialzato a cui è legata la storia la memoria della nostra comunità va detto che la nostra attenzione sul tema in oggetto è ricondotta anche al contraddittorio che venne generato dal progetto parcheggio che ben tutti conosciamo nessuno intende incorrere in sterili polemiche che portino nuovamente e per quanto legittime ha prese di posizione contrarie l'une alle altre il nostro interesse primario è quello di creare il giusto equilibrio fra le diverse posizioni che già si sono espresse e delle quali abbiamo già raccolto il pensiero la palazzina attualmente in uso è memoria storica del paese a fronte della sua realizzazione e destinazione originaria caratterizzata dalla presenza per decenni dei frati salesiani dovrà rimanere di proprietà dell'oratorio prevedendo un piano di recupero che ne destini gli spazi alle attività insite nel loro oratorio per eccellenza pertanto detto immobile deve essere riqualificato nel rispetto delle sue originarie funzioni e ricompreso nella progettazione proposta definendone un cronoprogramma di recupero unitario la scalinata da sempre utilizzata durante le processioni religiose rappresenta un punto di giunzione fondamentale fra il passato ed il futuro dove la nuova proposta progettuale deve armonizzarsi con la stessa concludiamo evidenziando come nelle tavole depositate non troviamo spazi dedicati in sostituzione del tendone adibito che ci consenta di procedere con le approvazioni necessarie porgiare distinti salotti l'amministrazione comunale di Istio questa è la lettera che è arrivata noi ne abbiamo parlato abbiamo avuto un incontro con il vice sindaco abbiamo spiegato quelle che sono le nostre perplessità nei confronti di queste nuove indicazioni che ci vengono date quando tutto ormai è programmato e sinceramente andare a proporre di nuovo al soprintendente un nuovo progetto riceverei un calcio nel sedere dopo tutto quello che abbiamo cercato di ottenere per le motivazioni che abbiamo appunto previsto tra l'altro forse non hanno letto bene il progetto il salone è un salone polivalente che vuol dire che non è né un teatro né un cinema che non verrebbe finanziato dalla cellula è un salone con 300 posti ad un unico piano per cui sopperisce benissimo a questo tendone sopperisce tra l'altro noi abbiamo già procrastinato di un anno la richiesta di contributo alla CEI e non possiamo più ottenere un altro un'altra proroga quindi perderemmo i 700 mila euro a fondo perduto abbiamo scritto una lettera abbiamo dato una risposta a questa lettera e l'abbiamo depositata venerdì scorso non abbiamo ad oggi avuto risposta probabilmente i tempi non sono stati diciamo sufficienti noi in quella lettera abbiamo chiesto che il consiglio comunale prenda in esame il progetto e dia una risposta al più presto possibile probabilmente possibilmente prima della figlia di luglio prima cioè della dotazione del nuovo ICT questo è quanto è avvenuto dopo ecco perché abbiamo spostato la presentazione di 15 giorni per avere un'interlocuzione in questo caso è venuto il vice sindaco da me e per avere la possibilità di dare una risposta scritta a tutt'oggi siamo in attesa della risposta del domenica questa voleva essere solo una presentazione e non una discussione se qualcuno ha dei chiarimenti da chiedere penso che possa farla o al sottoscritto o all'architetto se si tratta di questioni di carattere tecnico però come vedete dalla eh dallo scritto del comune non ci sono delle richieste di carattere legislativo sono tutte richieste se così possiamo dire di legame affettivo all'ambiente ma nessuno di noi ha intenzione di vendere questo ambiente questo ambiente rimane quando ci sarà in funzione il nuovo oratorio e la nuova palazzina con l'abitazione del curato eccetera qui si potrà eventualmente usufruirlo adagio adagio se ci saranno i fondi sistemarlo e usufruirne non so per le varie associazioni per esempio le nostre associazioni vedi le acli vedi le associazioni di volontariato che abbiamo cioè potrebbe diventare potrebbe diventare anche questa parte in un futuro una parte di ospitalità per esempio noi abbiamo un fracco di gruppi scout che chiedono al sabato e alla domenica di poter venire a svolgere le loro attività li dobbiamo mettere a dormire scusate nelle aule di catechismo o qui nel tentone se questo edificio che rimane verrà in un futuro sistemato potrebbe diventare anche un edificio dove questi gruppi si possono alloggiare e ospitare io vorrei rivadire una cosa questo studio durato 14 anni questo chiamiamolo studio del nuovo oratorio durato 14 anni e che ha pesato e dico la verità in maniera molto forte sul sottoscritto anche perché ho avuto anche degli scontri da parte della comunità cristiana di Iseo a riguardo della costruzione del nuovo oratorio è una costruzione che deve guardare al futuro non al passato il passato è certamente glorioso i padri salesiani hanno seminato a piene mani però non dimentichiamoci che sono passati 70 anni per padri salesiani e tanti altri preti sono passati sostituendo i 5 o 6 padri salesiani con uno a partire da Don Tarcisio Festa che ha fatto da traghettatore tra i salesiani e i sacerdoti diocesani fino all'ultimo curato che è arrivato 70 anni non sono pochi sono più di quelli dei salesiani ma però sono trascorsi anche i tempi i tempi dei salesiani non tornano più indietro noi dobbiamo guardare in avanti e dobbiamo cercare di creare degli ambienti che possono essere adatti per i tempi di oggi scusate qual è il giovane che si sente attirato da questo ambiente faticente me lo dite voi quanti cioè anche un ambiente nuovo un ambiente disponibile dove possono venire tutti sia i figli di quelli di destra sia i figli di quelli di sinistra perché noi non facciamo divisioni di carattere politico e non facciamo politica per noi i ragazzi sono tutti uguali per noi le famiglie di Eseo sono tutte uguali degne di rispetto e di considerazione e per noi il problema è quello di aiutare le giovani generazioni ad incontrarsi con Cristo Gesù perché questo è il nostro compito come cristiani farli incontrare con Cristo Gesù e aiutarli a diventare persone mature cittadini veri diceva San Giovanni Bosco che il suo compito era quello di creare dei buoni cristiani e degli onesti cittadini è l'intento che noi come sacerdoti abbiamo e che vogliamo cercare di attuare con una nuova struttura ora questa lettera che è arrivata alla fine è chiaramente una lettera che ci mette in discussione perché se io perdo i finanziamenti io l'oratorio non lo costo rischio più se io devo rifare un progetto che contempla di nuovo il salire il scendere eccetera vado contro tutte quelle motivazioni che noi abbiamo studiato per cercare di venire incontro alle persone che entrando da sotto possono tranquillamente parcheggiare la macchina ed avere a disposizione tutti gli ambienti soprattutto per le persone che sono portatrici di anni mentre qui sarebbe di nuovo una grande difficoltà da affrontare quindi noi abbiamo chiesto nella lettera che il consiglio comunale esamini al più presto il progetto e ci dire una risposta vedremo cosa succede possiamo io mi scuso con Don Giuliano perché ha appena detto che non c'è dibattito ma intervengo solo per una testimonianza quindi non di fatto niente su quello che ha scritto il comunale oltre a fatto della battuta dei frati salaziani se mi consente qui si parla di oratorio da tutta gente chi parla di oratorio deve averlo vissuto tutti quelli che scrivono quella lettera lì non l'hanno mai vissuto una cosa importante è che la storia deve risalire al topo guerra qui c'è sempre stata un'unione tra la comunità redditora allora rappresentata da Salesiani con Don Buscoletti che salvò insieme all'ufficialere e tedesco da una carneficina nel paese di Eseudi questo tutto in Lusano e allora queste cose vanno lette fino in fondo perché il fatto di Don Mariani al loro direttore che fece per scopera il fatto che vennero coinvolti tutti i ragazzi che facevano la media io c'avevo una professora di latino che mi diceva 6 scavi 20 carrioli del campo tipo un dono 20 frasi di latino e che mi ha corrotto vabbè però io l'ho accettato perché mi conveniva quindi io dico questo per dire il punto finale del discorso è che nel dopoguerra Don Abramo Marchesi fece risolgere la banda cittadina tutte queste cose riguardavano la comunità di Eseo come ha appena detto Don Giuliano non destra sinistra o centro riguardava tutta la comunità di Eseo e qui mi meraviglio che con un parere favorevole nella soprintendenza c'è il comune che tentena adattucendo delle tradizioni storiche che non esistono tipo le processioni non esistono le processioni sulla scala santa che non esistono le processioni ci sono state e io da ragazzino mi lamentavo che erano troppo lunghe e il prete mi rispondeva no caro non sono le processioni lunghe ma è la tua fede che è troppo corta quindi tutto questo insomma questi sono fatti che riguardano l'esperienza mia personale però io dico al fondo di tutta la vicenda credo che da parte del preme come rappresentante della comunità debba dare un po' di fiducia alla comunità parrocchiale che propone questo ma lo propone per chi? per i figli degli abitanti di Eseo non per chissà chi grazie allora a conclusione e avendo scontato Don Giuliano e tutta la relazione e soprattutto Dottor Quarantini il CPE presenta una lettera da sottoporre a tutti gli iseani e tutti i parrocchiani chi vuole sottoscriverla una lettera aperta al parroco Don Giuliano a sostegno di questa iniziativa in modo che si sappia chiaramente che non è Don Giuliano che si è intentato o si intenta queste cose ma è la comunità parrocchiale che ritiene opportuno e giusto proseguire su questa opera però la lettera dice così nell'interesse suscitato dal progetto nuovo oratorio di Eseo merita attenzione anche dei parrocchiani che finora sono rimasti ai margini del dibattito con una premessa doverosa l'ultimo intervento radicale fu condotto dai sanigiani negli anni 50 con la realizzazione del campo sportivo e l'acquisizione della billetta da adibire a scuola media parificata ambedue gli interventi erano rivolti più alla società civile che a quella religiosa infatti all'epoca il campo sportivo era quello situato in via Mier adiacente all'Aseo in maniera pragmatica i sanigiani avevano dato la loro risposta alla comunità di Eseo senza distinzione di sorte i tempi sono cambiati dopo 70 anni il parroco Don Giuliano inteso con gli organismi competenti elabora un nuovo progetto per la riqualificazione e per ottimizzare la struttura dell'oratorio per renderlo più accogliente per i ragazzi e le famiglie di Eseo e per corrispondere alle nuove esigenze pastorali per affrontare l'oneroso impesnio la necessaria disponibilità finanziaria viene reperita tramite finanziamenti CEI che hanno tempi stretti di erogazione abbiamo fiducia che gli organismi comunali competenti di Eseo dopo 14 anni della presentazione del primo progetto avendo a disposizione uno strumento urbanistico vigente risolva il problema di approvazione del progetto oratorio in tempi brevi visto il parere vincolante della sovrintendenza e della CEI un progetto rivolto alle famiglie e alle ragazze di Eseo alla loro educazione religiosa e civile per questo sosteniamo l'iniziativa del loro oratorio e chiediamo al parroco di proseguire nell'espetamento di tutte le pratiche necessarie ad ottenere il risultato positivo nel più breve tempo possibile a conclusione raccogliamo le fiebre voglio chiedere una cosa anche se molto in anticipo rispetto a me il progetto va benissimo anzi spero proprio che possa proseguire e essere realizzato però visto che siamo coinvolti anche come trazioni persone creminiane chiusane sicuramente mi porto avanti io si penserà in futuro a un modo di far fruire l'oratorio magari ce l'avete già pensato anche ai ragazzi magari agevolando il trasporto verso un oratorio cioè può essere allora già adesso i ragazzi di Pizzone per esempio vengono al catechismo qui eccetto l'ultimo gruppo che quest'anno farà la prima comunione e la cresima poi i ragazzi di Pizzone sono talmente pochi che provvederemo se non a poterli trasportare con un pulmino ma bisognerebbe acquistare un pulmino l'oratorio dovrebbe acquistare un pulmino in futuro per il momento siccome sono molto pochi anche perché il catechismo a Pizzone si va a Pizzone è solo quando ci sono gli incontri mensili con i genitori e i ragazzi che si devono spostare e allora ecco il motivo per cui facendo un centro più ampio con degli spazi più ampi si può eventualmente e facendo anche il parcheggio le persone possono entrare senza dover pagare il parcheggio fuori perché se io devo far venire i genitori per una riunione e questi mi devono pagare il parcheggio non so quanti me ne vengono quindi sicuramente poi si cercherà di fare questo lavoro di coordinamento ma ma non è mica detto che noi non usiamo più gli altri ambienti perché per esempio quando si tratta di fare il consiglio dell'oratorio non ci spostiamo nei tre oratori andiamo andiamo anche a Pizzone a fare il consiglio dell'oratorio non è che che abbandoniamo andiamo a Lusane eccetera sì sì poi si faranno allora io vi ringrazio per la pazienza che avete portato vi ringrazio soprattutto dalla presenza e se voi vi fate in un certo senso promotori e divulgatori di questo progetto vediamo che cosa si potrà ottenere grazie buonasera volevo fare una precisazione nella letter parliamo di che abbiamo una necessità che venga approvato il nuovo progetto prima della presentazione del nuovo PGT perché l'amministrazione comunale ha in essere di fare un nuovo PGT se non approviamo prima dell'adozione del nuovo PGT questo progetto rimane fermo e noi abbiamo la necessità invece che questo progetto avvenga prima che vengono adottati che venga adottato il nuovo piano che vengono che vengono che vengono che vengono che vengono che vengono che vengono